Devo dire che a livello di comunicazione, a livello di immagini, a livello di economia abbiamo fatto dei danni notevoli. Abbiamo fatto dei danni notevoli anche nella nostra provincia. Ci sono situazioni davvero molto preoccupanti di imprenditori che hanno completamente bloccato la propria attività. Questo non ce lo possiamo permettere e quindi come associazione a livello nazionale siamo costantemente in contatto con il Ministero per cercare di trovare tutte quelle misure a sostegno dell'impresa. Parlo di un fondo di garanzia, parlo della moratoria sui mutui, parlo del momentaneo non pagamento di alcune imposte e tasse. La stessa cosa è stata fatta in Regione, tanto che il consigliere di riferimento della provincia di Pesurbino, Biancani, ha portato una mozione in cui impegna la Regione ovviamente a un sostegno all'impresa. Stiamo facendo un lavoro enorme in trincea in queste ore perché come associazione in questo momento ci sentiamo davvero di combattere al fianco dei nostri imprenditori. Avete detto per primi non c'è solo il turismo, la ristorazione che ovviamente stanno subendo subito il contraccolpo di questa crisi, di questa emergenza, ma ci sono anche le imprese della produzione e della manifattura che stanno subendo i contraccolpi. Da questo punto di vista il Governo ha investito poco in questa fase di emergenza? Ma è tutto il mondo dell'impresa che è in difficoltà. Le prime avvisaglie ovviamente la mancanza di prenotazioni, a molti hanno disdetto, ristoranti e bar praticamente semi vuoti, questo è un problema immediato che si percepisce da subito. Ma tutto quello che c'è dentro il mondo produttivo è in difficoltà, lo sarà anche per i prossimi mesi e se questa emergenza non finisce purtroppo sarà una crisi molto impattante, che la nostra provincia in particolare, ma tutto il Paese Italia, non si può permettere. Il Governo sta innanzitutto gestendo l'emergenza sanitaria, ma sollecitato anche dalla CNA e dalle altre associazioni di categoria sta mettendo in campo alcune situazioni di sostegno economico alle imprese che spero il prima possibile vengano ovviamente in maniera molto pragmatica messe sul tavolo in modo che subito possiamo agire a favore del mondo economico e del mondo imprenditoriale che da una crisi degli ultimi dieci anni a questa ulteriore situazione ovviamente faticherà molto a riprendersi. Noi ovviamente ci auguriamo che l'emergenza sanitaria al più presto torni alla normalità, ma senza indugio da subito dobbiamo essere in grado di sostenere quelle imprese che un blocco economico di diversi giorni come quello che stanno subendo davvero sarà difficile nei prossimi mesi recuperarlo. Grazie a tutti.